Mi sono stancato da vivere in mezzo ai fantasmi. Questi ali per chi sono? Per una persona non c'è più. Ma guarda che aveva venti e tanti riporti morti indietro. Non mi va più di prendere ordine. E ora che sta città passa di mano. Infatti sono entrato in pulizia per rifarmi la vita. Lo sto più al servizio tuo. E che cosa ti ha fatto pensare di poter decidere? E ora sempre io decido che loro ti metteci un altro fantoccio al posto tuo. Prima il problema erano i miei padri, i due padri, il fratello. Ma non ce ne stanno più, il problema ce l'avevamo stessi. La politica la controlliamo noi. C'è chi cade e c'è chi prende il suo posto. Le cose cambiano prima o poi. Noi torniamo per comandare. Noi si dobbiamo rimettere insieme. Noi tre contro tutti. Te donna. E tu. Ci siamo messi contro gente potente. Stai, cambia tutto. Oh. Noi, ciao. Grazie a tutti